E allora ecco qui il Sony Xperia X. Vi dico subito molto comodo da tenere in mano, molto bello, leggero, 153 grammi, la finitura satinata del retro e dei bordi è molto bella da toccare. Insomma a primo acchitto un telefono piacevole da avere in mano. Qualche caratteristica che possiamo ricavare subito dall'esterno. Sul retro, cominciamo dal retro, il logo Xperia, il flash LED, la fotocamera da 23 megapixel, una delle buone sorprese diciamo di questo telefono. Sul lato vediamo il pulsante di accensione che integra anche un velocissimo lettore di impronte digitali, il bilanciere per il volume e questo tasto che vorremmo fosse presente in tutti i telefoni. Un tasto dedicato a scattare le foto. Ha una doppia corsa, con un mezzo scatto si mette a fuoco, premendo completamente si scatta la foto. Come vedete premendolo dal telefonino spento diciamo in stand by si attiva anche la fotocamera. Insomma veramente una idea ottima che vorremmo implementata in tutti i telefonini visto anche l'ampio uso che se ne fa degli smartphone come macchina fotografica e visto come è scomodo dover premere il tasto virtuale sul display quando si scattano foto. Ma andiamo avanti. Lato sinistro del dispositivo solo questo carrellino che ospita la SIM e l'espansione di memoria SD. Con l'occasione ricordiamo che l'Xperia X ha una memoria RAM integrata di 32 giga che può essere espansa con schede di espansione fino a 128 gigabyte. Sulla parte bassa del dispositivo la presa micro usb e uno dei microfoni. Parte alta un altro microfono e l'ingresso per le cuffie. Arriviamo alla parte più importante diciamo la parte anteriore. Accendiamo il display e vediamo subito che il display è un buon display da 5 pollici. Avviamo il dispositivo poggiando semplicemente il dito. Quindi display da 5 pollici, un IPS full HD, dalle discrete qualità diciamo. Sempre sul fronte troviamo la fotocamera anteriore da ben 13 megapixel, anche questa realizzata decisamente bene. E poi qui troviamo i due speaker. Diciamo in questa feritoia troviamo in realtà sia lo speaker sinistro diciamo, sia la capsula auricolare, sia anche il piccolo LED che ci avvisa della presenza di messaggi o di altri avvisi. La cosa da sottolineare per noi è la presenza di questi due speaker alle due estremità del telefono. Questa posizione è la migliore che vorremmo suggerire a tutti i produttori di smartphone. Primo vantaggio quando posizioniamo lo smartphone in questa posizione, tipicamente per guardare un film, una serie tv, un video comunque. Bene, abbiamo i due speaker posizionati lì dove devono essere per fornire un genuino effetto stereo. L'altro vantaggio che si ha è che gli speaker sono sempre liberi anche quando appoggiamo lo smartphone su una superficie. E restiamo ancora focalizzati sulle proprietà audio di questo dispositivo per sottolineare l'attenzione che Sony ha dedicato a questa sezione. Diciamo che la qualità audio, l'alta fedeltà è un po' nel DNA di questa azienda. Quindi vediamo un attimo quali sono le caratteristiche che ci hanno fatto veramente ben valutare il dispositivo in merito all'audio. Innanzitutto questo qui, la possibilità di attivare il DSEE-HX, che è un brevetto Sony, diciamo, che cerca di riportare un audio compresso, un audio lossy, quello tipico degli MP3 e anche dei video che includono questa codifica. Ecco, cerca di riportare l'audio lossy alla qualità originale di un audio non compresso. Attivando questa funzione, dunque il processore si impegna a ricostruire il segnale sonoro così come era in origine. Diciamo, il vantaggio si ha innanzitutto esclusivamente utilizzando delle cuffie collegate via cavo, dunque non via bluetooth. E il vantaggio che si ha è soprattutto nelle alte frequenze. Si nota un po' una maggiore trasparenza del suono. Diciamo che il vantaggio in termini di qualità sonora, benché non eccessivamente pesante, è comunque tangibile. Parlavamo dell'alta fedeltà e di come Sony si è sempre stata molto attenta storicamente alla qualità audio dei suoi dispositivi. Ma un'altra caratteristica che rende Sony famosa nel mondo è ovviamente la Playstation e l'attenzione per il gaming in generale. Anche in questo caso, diciamo, gli utenti potranno giovarsi di un dispositivo pronto a essere utilizzato come piattaforma di gaming. Soprattutto grazie alle buone prestazioni offerte dal processore. Uno Snapdragon 650 coadiuvato da una GPU Adreno 510. Il tutto con 3 GB di RAM. Non è una configurazione da primo della classe sicuramente. Eppure le prestazioni che si riescono ad ottenere sia nell'uso quotidiano dell'interfaccia, nella navigazione per esempio, guardiamo, ecco qui è già aperta la pagina di telefonino.net, vedete il pinch to zoom segue molto bene i nostri movimenti. Come sapete, come saprete, la pagina di telefonino.net è abbastanza pesante da essere visualizzata eppure, vedete, non ci sono grandi lag. Anche nell'uso dell'interfaccia in generale, ricordiamo che l'Xperia X monta un Android 6.0, nell'uso dell'interfaccia non abbiamo mai lag particolari. Anche nell'esperienza di gaming, vediamo subito, per valutare un po' la velocità e le prestazioni del processore, l'esperienza di gaming è di primo livello. Allora, ecco il nostro Asphalt 8 e come vedete il gioco scorre fluido senza particolari problemi. Tutta l'esperienza di gioco è molto fluida, tranne nel momento in cui si fa un incidente, ma questo è il vostro recensore che in tanti mesi ancora non ha imparato a guidare come si deve Asphalt 8. Una critica che ci sentiamo di fare apertamente è al posizionamento del sensore NFC, che è stato posizionato in alto a sinistra sulla parte frontale del dispositivo. Il che significa che per fare ad esempio il pairing di questo Xperia X con un altro telefono, dovremo posizionare la parte anteriore del Sony Xperia dietro alla parte posteriore di un altro smartphone. Andando a perdere così il controllo di quello che accade sul display. Capitolo batteria. La capacità della batteria integrata è di 2620 mAh e diciamo subito che una cosa che ci ha stupito è la durata della carica in stand-by con tutti i dispositivi wireless accesi, quindi wifi e cellulare. Bene, senza utilizzarlo, ci è capitato di lasciarlo acceso senza poterlo utilizzare per diversi giorni, ebbene la carica ha resistito per quasi 5 giorni prima di andare a zero. Con un utilizzo medio intenso ovviamente le cose cambiano, ma si riesce comunque a coprire abbastanza agevolmente la giornata lavorativa. La carica è compatibile con il Quick Charge 2.0, però abbiamo ricevuto lo smartphone in versione giornalisti, dunque senza il suo caricatore e quindi non abbiamo potuto provare questa carica. Per ciò che riguarda il risparmio della batteria abbiamo due modalità d'uso, Stamina e Super Stamina. E andiamone a vedere. Ecco qui, la modalità Stamina riduce l'utilizzo del GPS, della vibrazione e di altre caratteristiche in modo da aumentare la durata della batteria in maniera abbastanza considerevole. Ancora più interessante è la modalità Ultra Stamina, attivando la quale la batteria arriva, guardate, addirittura a 225 ore quasi stima. Comunque sicuramente si aumenta di molto la durata della batteria, anche perché in questo modo vengono disattivate completamente le connessioni ai dati, e viene addirittura modificata anche la home page in modo da mostrare solo un sotto insieme delle app disponibili. Guardate, ecco, questa è la nuova home page e praticamente possiamo giusto telefonare, spedire sms, fotografare, usare la calcolatrice. Insomma, l'utilizzo del telefono risulta molto ridotto, le possibilità offerte sono molto ridotte. In compenso, la durata della batteria si avvicina un po' a quella che ormai solo i più vecchi di noi ricordano, che le incredibili durate dei Nokia dei primi anni 2000, che riuscivano a durare settimane intere utilizzandoli come semplici telefoni. Dunque, magari non per tutti i giorni, ma per quelle occasioni particolari in cui ci serve solo il telefono, e non abbiamo magari a disposizione la possibilità di caricare il telefono per molti giorni, questa possibilità offerta dalla modalità Ultra Stamina può essere veramente molto interessante. Parliamo ora del reparto video e fotografico. Per quanto concerne i video, poco da segnalare. Non è possibile fare riprese in 4K, abbiamo solo il Full HD, e le riprese sono mediamente buone, ma niente di eccezionale sotto il sole. Più interessante, invece, è quello che concerne il reparto fotografico. Le foto che si riescono a fare, specialmente quando ci sono buone condizioni di luminosità, sono decisamente buone, colori fedeli, l'HDR funziona abbastanza bene, anche se è un po' annidato nel menu, bisogna andare in modalità manuale, in un sottomenu per attivarlo, ma insomma, complessivamente il giudizio è positivo. Quando c'è scarsa luminosità, poi l'HDR interviene abbastanza bene. Guardiamo qui, ad esempio, abbiamo fatto due foto, guardate, qui è senza HDR, e qui con HDR. Come vedete, i toni più scuri vengono portati abbastanza in evidenza, con una buona qualità. Viene falsato un po' il colore del cielo, come vedete, però non ci si può lamentare. Diciamo che il risultato risulta essere più che buono. Tra le cose interessanti di questa fotocamera posteriore, che ricordiamo è da 23 megapixel, è la possibilità di seguire gli oggetti in movimento, guardate, o anche i volti. Chiamiamo un amico, veramente questo l'abbiamo rubato a mia figlia. Guardate, se io seleziono il fuoco, guardate, su questa macchinina, se la macchinina si sposta, il fuoco segue abbastanza rapidamente il soggetto in movimento. Questo ovviamente vale anche per dei volti, quindi questa funzionalità è molto comoda e realizzata anche abbastanza bene. Ci sono molte opzioni per ciò che riguarda le app fotografiche. Una delle più sfiziose è questo effetto di augmented reality. Si possono scaricare diverse maschere, diverse sottoapplicazioni, diversi contenuti aggiuntivi. Ce ne sono alcuni gratuiti, precaricati. Ad esempio c'è questo qui, favola, in tema con la macchina che abbiamo messo qui sulla scrivania. Guardate, ci sono degli effetti sonori, perché in realtà oltre alle foto possiamo scattare anche dei video. E poi, guardate, sulla superficie, dell'immagine che riprendiamo, vengono posizionati degli oggetti che sembrano proprio perfettamente sistemati come se fossero realmente presenti nella scena. Guardate, qui c'è anche del fumo che esce da questa casetta a forma di fungo. Ci sono dei personaggi che ogni tanto transitano, si possono spostare gli oggetti. Si può scattare ovviamente la foto della scena e si può anche girare un piccolo video con questi oggetti in scena. Niente di particolare, ma diciamo una buona dimostrazione delle capacità di sonio di arricchire l'interfaccia con giochini e app ben fatti, sicuramente ben fatti. Il telefono complessivamente ci ha convinto, si tiene molto bene in mano, la dovata della batteria è congrua, le prestazioni sono eccellenti, non ci sono mai problemi di lag e l'interfaccia è stata modificata con grande gusto e grande attenzione da parte di Sony. Quindi, complessivamente, una promozione a pieni volti per questo bel telefono della Sony. Ovviamente, quando si tirano le somme con gli smartphone o con qualsiasi oggetto da acquistare, bisogna fare i conti con il prezzo. Ebbene, al momento il Sony Xperia X si può trovare su internet a circa 430 euro. Non sono pochi, vista la configurazione che non fa gridare al miracolo, però, dobbiamo dire che, considerata la qualità complessiva costruttiva e la piacevolezza d'uso di questo smartphone, possiamo dire che, benché si trovi di meglio come prestazioni, a livello di equilibrio estetico e funzionale, il Sony può dire la sua. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!